La Lega è stato il primo partito che già in autunno aveva denunciato il rischio del caro bollette dato l'aumento dei costi dell'energia. Per questo il decreto di oggi è un risultato ottenuto col pressi incostante che abbiamo fatto sul governo. Questo decreto segna la strada giusta, mette delle risorse per abbassare il costo delle bollette ma soprattutto aumenta le trivellazioni per avviare all'Italia l'autosufficienza energetica che serve. Ora occorre fare ancora di più e trovare più risorse.